Bella a tutti ragazzi, bentornati su Paper Mario d'Origami King Nella scorsa puntata abbiamo, beh, salvato Bowser e aver scoperto che al castello di Peach, Peach è diventato un origami Riuscirà Mario a salvarla? Beh, saremo noi a salvarla infatti Beh, insieme a Mario Puff, puff, farò la voce un po' da Bowser Ehi, rallenta! Sto camminando con la faccia! Nessuno mi ha mai umiliato tanto? Cioè, nessuno a parte loro? Me la pagheranno cara! Ah, finalmente! Comunque, vi ricordo di lasciare un mi piace, barro un non mi piace e di rispondere alla domanda del giorno Che è, che è, vi piace la serie Paper Mario? Se avete mai giocato a un gioco, ditemi quale Se fate appunto la domanda del giorno, io vi posso mettere il cuoricino Ok, ora siamo sulla cima, tra virgolette, del castello di Peach E cosa stiamo vedendo? Cioè, siamo sulla cima, niente di che Adesso dovrebbe arrivare Peach Se sentite qualcuno che parla è mio padre, tranquilli, non è niente Non voglio che mi veda in queste condizioni Perché sei ancora così piatto? Perché non vuoi unirti a me in tutta la mia gloriosa piegrivolezza? Coraggio, possiamo darti una nuova forma Ah, quindi sei tu il famoso Mario, l'eroe di quella principessa pizza ci fida così tanto, eh? Sì, sì, andrei bene, robusto, colorato e con dei baffi belli folti Che ne dici? Tu unisci a noi di nostra... Ehi, anch'io sono... Vabbè Se unisci a noi di tua spottanea volontà Altrimenti dovremmo piegarti al nostro volere Sì o no? Ho scoperto che se di te sì, non è niente Ah, proprio come immaginavo Dire il vero non avrei citato nessun'altra risposta Quindi infatti non cambia niente Guarda bene la principessa Peach Non sta così... Così sta molto meglio, non credi? Non serve che rispondi Presto le tue cartacee membra Superanno la stessa sorte Soldati origami, venite subito qui Oh, guarda, abbiamo dei tipi timidi E un Goomba Tutti origami, a quanto pare Non avevo mai visto un soldato origami Così mai assomiglia a qualche tuo amico di carta piatta? Non mi hai mai fatto Conoscere Todd Preparati a te a venire piegato Battaglia ondate Benvenuti ragazzati Ragazzi nella mia Nella prima battaglia di Paper Mario ed Origami King Oh no, questo è il tuo primo scontro con i soldati origami Vero Mario? Effettivamente no Purtroppo questi poveriti sono stati trasformati in origami Ed è impossibile invertire questa trasformazione Temo che l'unica cosa da fare per quanto crudele sia combattere Altrimenti trasformeranno in origami anche te Ti aiuterai ad attaccare Ma in battaglia sono meno utile di un fermacarte Davvero? Almeno farò il tifo per te Dato che tu fai tutto il lavoro fisico Buona fortuna Mario Grazie Mettili in riga Che bei giochi di marano Hai visto la scritta che è apparsa prima? Battaglia ondate? Io non ho ben capito cosa significa E mi immagino che lo scopriremo nel corso della battaglia Però pensiamo solo a vincere E così sei circondato da 4 soldati origami E questi 3 da dove sono saltati fuori? Se ti attaccano tutti insieme Sono dolori Che situazione difficile Senti Ho un'idea Se riusciti ad allineare tutti e quattro Potete saltare in testa E tutti Uno dopo l'altro Con un singolo attacco Per tua fortuna Questi anelli ci permettono di spostare i nemici E raggrupparli insieme Dunque Usa L Per selezionare l'anello Che puoi muovere Poi premi A Per confermare la scelta Ora ci stanno un gomba ribelle fuori posto Vediamo se puoi riportarlo Ok E' una specie di puzzle Possiamo dire Ora Usa di nuovo L L'analogico per dire Per ruotare l'anello selezionato Una volta riportati in linea I gomba Premi di nuovo A Per finire Praticamente una specie di Puzzle game La battaglia Però è bellissima Ottimo Ora hai allineato tutti e quattro i gomba Con una formazione ben allineata Il tuo attacco infilge danno 1,5 volte maggiore La matematica non è il mio forte Ma sono sicura che Che non è poco E ti sta dando aiuto Praticamente sarebbe L'attacco aumentato di 1,5 Quindi farete 1,5 in più Di danno Beh spero di essere stata chiara Ma riassumendo Un altro vantaggio di mettere tutti in linea E così il tuo potere di attacco aumenta Allora io non sono sempre stato bravo ad allineare Perché ho fatto alcune partite E non ce l'ho sempre fatta Quindi non aspettavo di tanto Beh è arrivato il momento di spiaccicare Questi gomba con un attacco in salta Allora seleziona un paio di scarpe con L E poi premia per iniziare l'attacco Scarpe E iniziamo Turno di Mario Fantastico Fantastico Scusate benissimo Benaviglioso Hai mantenuto tutte le promesse sul famoso attacco in salto di Mario Hai ligato tutti e quattro i gomba con un singolo attacco Quella di mettere tutti in fila Cos'è stata un'ottima idea vero? Sì Ultima ondata Ah ci sono altri soldati origami? È come se ci attaccassero ondata successiva di nemici Beh deve essere per questo motivo che si chiama battaglia ondate Non l'avrei mai detto Olivia Comunque quando vedi la scritta ultima ondata suppongo sia davvero l'ultima Teni duro Mario Ok Mario questi sono disposti in maniere diverse Nel momento di mostrare l'attacco con il martello Ok da ora non leggo più il tutorial Perché anche non ci metto troppo tempo Perché eh sapete com'è Vorrei sbrigarmi un po' visto che le cose già le so Le caselle e le contrasigni Sì sì lo so Lo so Ho già fatto questa battaglia già una volta Non c'è bisogno che mi ripeti le stesse identiche cose Grazie So già com'è che si allineano le Com'è che si allineano i nemici Però in realtà allineare non è la Non è l'unica cosa da fare Beh poi Poi in una puntata finalmente Potremmo Scoprire un altro modo per allineare i nostri cari 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 origami nemici Eeeh fan No benissimo Però io non sono mai stato bravo Con gli attacchi in martello Quindi penso saranno sempre benissimo Perfetto Questa cosa abbiamo finito il tutorial E ogni cosa che farete Quindi zero danni Bonus battaglia Rompicapo risolto E anche la vittoria vi daranno monete Sei riuscito a vincere la prima battaglia Bravissimo Ma quelle sono di gran lunga le creature meno letali Che tra quelle che popolano nel regno Beh mi sa che non ha più senso Continuare tutta questa messa in scena Fratello Eh già No no non può essere Non volevo che potessi essere tu Alla faccia della famiglia Quante volte ti ho detto di fermarti Ti prego ora la devi smettere Mario avrebbe dovuto Lasciarti nel muro dove ti avevo infilata Detto ciò se tenti di ostacolarvi Non esiterò a farti finire nel bidone della carta da riciclare Sorellina Oh e a proposito Io non sono più tuo fratello Ollie Io sono re Ollie Ora sono re Ollie Scusate non riuscivo a leggere Perché vi sto anche mettendo una visale buona Quando avrò finito tutti quei miserabili Saranno belli piegati Il cartaceo e i scagnotti di Bowser si rinasceranno come soldati origami al mio servizio E infine piegherò il mio volere il mondo intero Sarà l'alba di un nuovo regno degli origami Allora adesso vi dico Mentre c'è questa caccia infighissima che si è vista anche nel trailer Praticamente Oramai salterò tutti i tutorial Perché tanto Voi potete stoppare il video e leggerveli per voi Tanto È molto facile Nel frattempo questo Nel frattempo il castello di Peach viene Chiuso possiamo dire Incastrato tra virgolette In questi nastroni giganti Che sono di Cinque colori Viola Giallo Blu Verde E rosso E saranno appunto le varie tappe che Affronteremo in questo gioco Poi sta caccia Veramente Si è vista nel trailer una parte Devo dire che è proprio Una delle caccia più ben fatte C'è C'è queste angolazioni sono troppo fighe C'è Poi si va È per questo che amo questo gioco Per le caccia Fighissime Ma guardate un po' adesso Luigi Dove sei amico mio Eh fratellino scusate Ok adesso loro fanno tipo una manovra Ma a quanto pare Boom Inciampano nel nastro rosso Che Ma guarda un po' la casualità Sarà proprio il primo nastro Che noi andremo a distruggere A Far fuori Perché il nostro obiettivo Sarà trovare le estremità Di questi cinque enormi nastri Cavolo Sto parlando come proprio un poeta Però Non sono un poeta Allora in realtà avrebbe fatto il salvataggio Però guarda andiamo nel prossimo salvataggio E così concludiamo l'episodio E domani Forse forse domani Perché domani vengono alcuni dei miei parenti Andremo a fare Quest'area Che non mi ricordo Com'è che si chiama Non puoi usare gli artimani Se non c'è Olivia E appunto E praticamente Non puoi usare il martello baleno Se non hai tinto Che è su color splash Sì sì lo so Si chiama Strappo strambo E indovinate con cosa Dobbiamo Dobbiamo Ripararlo Con un sacchetto vuoto Sì Ma un sacchetto Che dovremmo riempire Di coriandoli Ogni coriandolo È un piccolo pezzetto Di questo mondo Ha detto Olivia Qui non dobbiamo Ecco appunto Questa qua è la Borsa Degli origami Sì degli origami Mannaggia oh Mi sono inceppato La borsa coriandolo Io la chiamerò borsa Semplicemente E vi indica Quanti Coriandoli avete Basta solamente Andare vicino Ai coriandoli E ve li prenderà sicuramente Se volete Fare un po' di scorta Dovete semplicemente Tipo Martellare un po' Così cadranno Cadranno Dei Dei pezzettini di coriandoli È un po' come È praticamente Color splash 2 È un po' come ha detto Lethal Insomma È un color splash 2 Sì sì lo so Questo qua Non è il massimo Però vuol dire Che hai parecchi Coriandoli Meglio Abbiamo finito Possiamo andare Non tento Indugiare oltre Ok Adesso Dobbiamo avvicinarci E Premere ZR Per Lanciare Questi coriandoli E riparare Il paesaggio Così Ecco fatto Tinto Origami Che è anche Più interessante Di coriandoli Quella Ti seguiva E basta Non è che Aveva dei poteri Strani Praticamente Ogni alleato Che abbiamo Inizio gioco Ci segue Fino alla fine D'avventura Poi al boss finale Si sacrificano Per quale Per qualche motivo Per aiutarci A battere Il boss finale Quindi corinne Per lo sticker Per Tinto Per la vernice nera Di color splash E chissà Com'è che si sacrificherà Olivia Sì sì Lo so Ora dobbiamo utilizzare Gli arti magni Che servono Ad andare avanti A prendere Praticamente Quel blocco Gli arti magni Non servono Solo a togliere Ma servono Che a spaccare Con una forza Tipo di Hulk Questi ceppi E tanto altro Vi devo dire Adesso Otteniamo Il primissimo Funco Del gioco Che è un oggetto utile Che ripristina La salute Di Mario C'è scritto lì Mario Questo è un oggetto Ti tornerà utilissimo Nel corso Della tua avventura Puoi controllare Gli oggetti Che possiedi Aprendo il menu Con più E selezionando Oggetti Eppure Mentre giochi Premi Y Seleziona un oggetto Ecco Adesso Ve lo mostro Così Premete Su fungo E recupererete 50 punti vita Precisi Abbiamo ancora Un po' Oddio Che bella Sei Wow Potrei ammirare Questa vista Tutto il giorno Guarda la cima Di quel monte Ehi ma Cosa c'è là Quelle sono Le muore esterne Del castello Di Peach Vero Ho visto Mamma mia Quanti doppi sensi Quanti doppi sensi Quattordici minuti Quattordici minuti Da un po' Diventano anche Quindici Direi di chiudere Questo Strappo Strambo E salvare Così Non abbiamo Niente da perdere Ok ragazzi Nella prossima parte Di Paper Mario The Origami King Andremo avanti E andremo avanti Per il Com'è che si chiama Che adesso lo vedo Bosco Bisbiglio Quindi ragazzi Da qui Da Lorenzo è tutto Ci vediamo Nel prossimo Episodio